Ciao a tutti, mio nome è Franco Cavadini e sono il chief technical officer di Cinesis, una piccola compagno nella parte del nord dell'Italia. Sono qui oggi nel NXC Controll booth per supportare il messaggio di 61499 che è il standard per l'industria 4.0 quando si tratta con la distribuzione di automazione e di controllo reale. Ciò che stiamo presentando nel booth è la tecnologia in itself, i hardware che stanno iniziando a gestire e a supportarlo nel mercato, ma anche scena di scena in cui le tecnologie hanno stato implementato in un modo effettivo. 61499, con rispetto alla industria 4.0, credo che sia un cambiamento potenzialo, perché non è solo un nuovo standard per sviluppare controllo reale, controllo di distribuzione di sistemi. È in realtà di portare un nuovo concept, un nuovo paradigma per l'engineering automazione e l'engineering, in un domaine che è normalmente reluttivo per l'innovazione. Ciò che abbiamo qui è il punto reale di convergenza tra il domaine fisico e il domaine digitale, che è l'essenza della transizione per l'industria 4.0. 61499 iniziò questo non solo perché è il standard, ma perché è stato implementato da NXC Controll in una forma che adottisce completamente i concepti di twin digitale, di interconectare la fisica con la virtuale e di supportare tutte le altre tecnologie che sono relevanti per l'industria industriale. in cui è stato implementato da NXC Controll Sì, ovviamente non è solo sulle tecnologie, ma anche su come si è usato e come si è creato, si è creato per nuovi ocasi industriali in cui si è implementato. Personalmente, come CTO di Cinesis, ma anche come collaboratore con il Hub Comonext Innovation Hub, uno dei più grandi in l'interno dell'Italia, ciò che abbiamo fatto è creare un demonstrator fisico per l'industria 4.0, dove tutto in automazione è basato sui 61499 e la piattaforma da NXC Controll In effetti, ciò che abbiamo fatto è andare alle porte dei servizi dal domaine di distribuzione, chiedendo per le necessità, disegnando una mechatronica completamente e facendo questo per adottare il paradigma dell'engineering di 61499. Ciò che potete trovare lì, e faccio l'occasione per invitare a l'Italia e venire a noi, è una topologia multicontrollante governata con Cartesians, molti convegni, robot di KUKA, tutto che è rubato e orchestrato nelle lingui 61499. Non è solo in essenza, è anche interconectato con altre soluzioni dell'industria 4.0, come la simulazione, la commissioning virtuale, l'analisi dell'analisi dell'automazione e l'optimizzazione. E in questo demonstrato, ci siamo capiti di mostrare perché e come 61499 è il punto di convergenza tra il domaine fisico e classico dell'automazione dell'industria e i nuovi sistemi generazioni che vengono dalla data analitica. di queste informazioni. Grazie. Grazie.